3, 2, 1, ACTION! No, faccio il video, dico così perché poi taglio, taglio il video, capito? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Cobra, siamo da Ibiza stiamo facendo il torneo a Ibiza a tempo lungo, ospiti di Cessin Ibiza e Nicolò, Napoli che ringrazio e saluto, questo è il magnifico panorama che c'è fuori al faro del torneo faremo interviste, vedrete il torneo Blitz, il torneo Rapid, qui dicono Rapido vedrete una serie di contenuti, abbiamo anche tanti giocatori da farvi vedere io sono contentissimo, questo è un bellissimo viaggio che appunto ho avuto l'opportunità di fare grazie al club Cess in Ibiza e grazie al maestro Nicolò Napoli metterò tutti i link in descrizione detto questo, se ancora non mi seguite io vi chiedo di mettere un'iscrizione al canale e un piccolo mi piace se poi vi piaceranno i contenuti quindi ragazzi io vi saluto e vi dico, daie, grandissimi perfetto, aspetta, prima facciamo, dai, ciao ragazzi siamo a giocare la prima partita su scacchiera in questa Ibiza contro Giovanni Ropinto, candidato maestro e ci troviamo con la scacchiera contro lui, si deve essere a registrare, aspetta che spesso, come dicono la prima partita e dammi, dammi il via, incominciamo su scacchiera in questa Ibiza 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 And when you're next to me, I feel like you adore It's all the things you've never shown They're all the things I want to know Secret stars in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now Se ne ha solito il giocatore Ok, perfetto Ok, 3, 2, 1, action Ok, hola a tutti ragazzi Siamo con Maria, giocatrice del torneo Che ha consentito a fare un'intervista con noi Quindi, nello sfondo del faro di Ibiza Che tiene il torneo, che ospita il torneo E più in là c'è il mare che avete visto nell'introduzione Che rinquadrerò sicuramente più tardi Intervistiamo Maria, che parla sia italiano che spagnolo Quindi, Maria, come sta andando il torneo? Come sta andando il torneo? Pues, estoy haciendo unas partidas maravillosas, fantasticas No he ganado ninguna, pero he aprendido mucho Ah, ok, quindi ha detto, è stata una partida fantastica Non ha vinto, ma ha appreso molto Questo, io la ringrazio Ti è piaciuto fare il torneo? Hai avuto emozioni? Sì Com'è stato? È il tuo secondo torneo? No, è lo mejor quinto o sexto Quinto o sexto torneo Comunque sta i primi tornei E non ha ancora Elofide, giusto? Todavía no tengo Non tiene Elofide? Per cui, noi ringraziamo Maria Che si è prestata l'intervista Appunto, ci ho detto che al torneo ha fatto una partita che non ha vinto, ma ha preso molto E questo è lo spirito giusto, ragazzi Perché se venite, giocate su scacchiera, potete apprendere tanto Quindi, io vi ringrazio Salutiamo Maria che si è gentilmente prestata alla nostra intervista E poi la vedrete come traduttrice quando intervisterò E se intervisterò i giocatori spagnoli Perché parlando io italiano e loro spagnolo O facciamo una cosa internazionale, ragazzi O ci avvaliamo di una traduttrice Quindi, state connessi Ciao Perfetto, ragazzi Andate I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this the thing I've been here? I can't be too sure, but one day I'll be yours again Love lessons come one in a dozen, the other alive and give something from nothing I'll stick here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had today, without you I never could have moved away But now I see what you teach, I don't believe I always should have stayed, yeah Is this the thing I've been here? I can't believe it's true, I'm just surprised it's you Is this the thing I've been here? I can't be too sure, but one day I'll be yours again Yeah Love lessons come one in a dozen, the other eleven do something from nothing Love lessons come one in a dozen, the other eleven do something from nothing The other eleven do something from nothing Love lessons come one in a dozen, the other eleven do something from nothing Life changes just open the door, but one thing's certain I'll always be yours again Is this the thing I've been here? I can't believe it's true, I'm just surprised it's you Is this the thing I've been here? I can't be too sure, but one day I'll be yours again Is this the thing I've been here? I can't believe it's true, I'm just surprised it's you Is this the thing I've been here? I can't be too sure, but one day I'll be yours again I don't know what you ever heard No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao!